Bisogna proporre e portare a termine dei correttivi sulla manovra finanziaria. Bisogna preoccuparsi dei trasporti, bisogna preoccuparsi della sanità, della scuola, bisogna preoccuparsi del lavoro e delle pensioni, per dare la possibilità al nostro popolo di poter superare la fase peggiore della crisi pandemica. E poi ci vuole una grande riforma del fisco, affinché il potere di acquisto delle famiglie, affinché l'economia si rimetta in moto. E poi dobbiamo ancora fare interventi, per esempio per allargare la platea dell'ape sociale, arrivando magari a un'ape aziendale. E ancora suggerirei di fare un intervento importante per permettere ai comuni di assumere nuove persone, oggi bloccati dalla mancanza di risorse che gli entrano dalle tasse. Ecco, questi interventi sono gli interventi che permetterebbero di agevolare la ripresa economica da una parte e la funzionalità anche dell'amministrazione pubblica dall'altra.